Ciao, sono Maurizia Cacciatori e oggi sono stata presente all'Accademia dello Sport per portare la mia esperienza di donna di sport, capitano in granzo di pallavolo per tantissimi anni e oggi diciamo relatrici in ambiti svariati. Io credo che lo sport sia davvero uno straordinario simulatore di lusso della vita reale ma che porta davvero tantissime skill, quali il mettersi in gioco, il coraggio, la capacità di fare squadre, quello che ho cercato di portare oggi in questa aula così interessante con ragazzi molto motivati, molto attenti, molto curiosi e quindi è un'eredità che lascio e che mi piace come di lidere. Fondamentalmente penso che un manager che nell'ambito sportivo debba avere una forte empatia, una buona sorta di leadership e la capacità di comunicare, io dico sempre, saper guardare e non vedere, saper ascoltare e non sentire, quindi andare oltre e non ponersi mai ai limiti ed essere sempre anche una grande fonte di ispirazione.